Allora, dato che ci sono, ho appena fatto una cazzata, aspettate un attimo, ho scenerato nella mia tisana, cioè, scusate, oh signore, vabbè, rieccola, visto che bel casino che c'ho dietro, questo è il mio laboratorio, così. Allora, dopo aver appena scenerato nella mia tisana invece che nel cosacenere, me la vado a riversare e torno a dirvi quello che vi volevo dire, che molto probabilmente sarà argomento sgradito a qualche persona, ma non me ne può fregar di meno. Allora, da quando ho pubblicato un video inerente ad una certa youtuber e non farò nomi, così non possono dire che lo faccio per le views, non metterò niente nel titolo, se dovrò fare presente, farò presente alle dirette interessate. Cosa sto facendo? Scusate, stavo guardando lì perché non c'ho il telefono che fa il cretino, vabbè, dicevo, non metterò nomi, non metterò titoli perché non è per le views, pipa pipa pipa, allora, io vorrei capire dov'è il problema. Se se ne parla bene, è perché se ne parla bene, e se se ne parla male, è perché se ne parla male, e se si offende perché si offende, e se non si offende perché non si offende. Mi avete rotto gli zebedei. Allora, io ho le mie ragioni se ho fatto quel video, se mi hanno portato visualizzazioni, viva, chi se ne frega, non sono mica qua solo per puro piacere personale, cioè se arriva anche la monetizzazione, che ben venga. Io, d'altronde, ce l'avevo già, poi mi è stata tolta perché, giustamente, avevo pochi iscritti, però all'epoca a me YouTube la monetizzazione me l'aveva data, e all'epoca avevo già fatto un video su un altro YouTuber, che non ha mica creato tutto questo scalpore come l'ultimo. Comunque, perché se uno ha un piccolo canale e parla degli altri YouTuber, allora lo fa per la pubblicità, se lo fanno delle grandi YouTuber, va tutto bene. No, non sono d'accordo. Ognuno qui su questa piattaforma è libero di esprimere la sua opinione, sempre chiaramente con educazione. Poi, tutto è lecito. Parlando con un altro YouTuber, della quale non farò il nome proprio per evitare che mi dici, anche lei ha questo problema qua. Allora, e lo fai per le visualizzazioni, e lo fai per questo, ma chi se ne... e anche se fosse, ma il problema dov'è? Altra cosa, io giro i miei video in macchina, da quando esco di casa e vado al bar, quindi sono 5 km, sì, non giustificabile. Ma che io metta la cintura o meno, a voi non ve ne deve fregare un cazzo, scusate, passatemi il termine. Perché, uno, io potrei avere un'esenzione per la cintura. Due, fate questa domanda in un contesto che non ci azzecca niente. Tre, poi io rispondo per le rime, mi becco della dodicenne e me ne frego. E basta. Cioè, se voglio mettermi la cintura, me la metto, se non me la voglio mettere, non me la metto. Non è un problema vostro. Se mi faccio male, mi faccio male io. Non porto via niente a voi. Vi dà fastidio la mia papagallina che fischia? Che magari per me sia anche offesa, perché oggi stranamente è zitta, starà dormendo da qualche parte. Non guardate i miei video. È la mia papagallina, è la mia bimba, fa parte della mia famiglia, a me va bene così. Giro i video perché lei fischia tutto il giorno. Se mi desse fastidio non l'avrei. Se dà fastidio a voi, non so cosa dirvi. Voglio dire, su YouTube ci sono milioni di canali, andate da un'altra parte. Fine. Fumo? Sì, fumo. Vengo a fumare a casa vostra? No, sulla mia macchina faccio quello che voglio, a casa mia faccio quello che voglio. Dove posso fumare? Fumo. Dove non posso? Non fumo. Non vedo perché? Dobbiate rompermi le scatole anche che fumo. Mica consumo i vostri polmoni. Mica vi arriva il fumo dalla videocamera. Contenuti. Altro argomento che... Vabbè. Allora, a volte mi arrivano commenti, canale inutile, priva di contenuti, poi tu vai a vedere chi ha commentato perché giustamente dici cacchio magari è una persona con un quintale di iscritti e ho da imparare. E poi scopri che hanno zero iscritti, quattro iscritti, un iscritto. Allora, prima di venire a dire a me o a altri youtuber che il canale è privo di contenuti, inizia a girare dei video. Vediamo i tuoi di contenuti. Poi una volta che tu avrai dei contenuti veramente sostanziosi, 2 milioni di follower, di iscritti, di che ti sei... Allora vieni a rompere le palle. Se no, non guardare il mio canale e non guardare il canale di quelli che secondo te sono privi di contenuti. Non c'è mica scritto il dottore. C'è mica l'obbligo di visione. E voilà. Questo è quello che avevo da dirvi. Prendetela bene, prendetela male. Chiaramente non è riferito a quelle persone che mi seguono, che sono sempre carine e gentili con me. Un'altra cosa. Bestemmie. Sui commenti, cioè... Io non sono credente. Sta di fatto che una volta che avete bestemmiato quello che dite ha più valore, a mio avviso no. Perché io prendo... Cancello. Lo sto facendo da un sacco di giorni. Vedo un commento che mi fa caccare. Ti rispondo perché sono educata e quindi ti rispondo perché non ti ignoro del tutto. E poi ti cancello. Perché io di avere persone di cacca, passatemi il termine, nei miei commenti, non ne ho interesse. Con le persone educate che la vedono diversamente da me, posso rispondere. Con i maleducati rispondo e poi... A casa mia, l'immondizia, si elimina. Ciaone.